Una grande staffetta politica bipartisan per due grandi fondamentali temi, due tutele sociali, la tutela della maternità degli atleti e delle atlete non professioniste e la parte previdenziale ovviamente come tutela sia per gli atleti che le atlete, quindi due grandi tutele sociali che bipartisan abbiamo deciso di portare avanti riconoscendo agli atleti che vestono la maglia azzurra del nostro paese, della nostra Italia, questi due grandi principi che ci pongono come nazione a livello massimo, proprio a livello internazionale.